Partirei proprio dal bollettino, sono 272, ieri erano 314 i nuovi casi accertati di coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dall'analisi di 4896 tamponi tra molecolari e antigenici. Questo significa che il risultato positivo è il 5,50% dei campioni. Ieri la percentuale era leggermente più alta del 6,46. Si registrano purtroppo ancora decessi, 9, 2 comunque in meno di ieri, che fanno salire il bilancio totale delle vittime a 2.145. Dopo la discesa dei giorni scorsi rimangono invariati i ricoveri, 675 come ieri. Di questi, 606 sono in terapia non intensiva e 69 in terapia intensiva, mentre sono 9.466 le persone in isolamento domiciliare, in questo caso dato che sale un po' rispetto a ieri. In totale gli attualmente positivi sono dunque 10.141. I guariti dall'inizio della pandemia sono saliti a 53.223 più 253 rispetto a ieri. Detto dei dati, rimanendo in tema di emergenza sanitaria, questa mattina insieme al tecnico Martelli ci siamo occupati di un tema piuttosto caldo, che sta facendo discutere parecchio, ovvero i viaggi a Pasqua. In Italia, lo sapete, non sono consentiti i viaggi tra regioni, a meno che non ci siano validi motivi legati al lavoro o anche alla salute, mentre è possibile ad esempio prendere un aereo e andare all'estero per turismo, pur se con alcune regole, ovvero tamponi e anche alcuni giorni di quarantena. E noi proprio su questi temi abbiamo sentito due operatori di agenzie, due titolari di agenzie di viaggio e su questo servizio direi che la linea può tornare allo studio. Per durare di questa pandemia il cambio repentino dei decreti legge, che si può partire o non si può partire, naturalmente ci disorienta a noi e soprattutto anche il consumatore finale. Così si sentono gli operatori del turismo organizzato, mentre gli spostamenti tra regioni italiane sono vietati. Per i viaggi all'estero a Pasqua, l'ultima ordinanza, firmata dal Ministro della Salute e Speranza in vigore fino al prossimo 6 aprile, dispone tamponi in partenza, un periodo di quarantena di cinque giorni e di nuovo test molecolare o antigenico, perché arriva o rientra in Italia anche dai paesi dell'Unione Europea. Come dire, una situazione caotica che ha scatenato diverse polemiche. In molti si recano presso le agenzie di viaggio chiedendo informazioni, ma le prenotazioni latitano. Purtroppo non ci sono prenotazioni, assolutamente. Comunque dobbiamo dire che i viaggi all'estero dal maggio del 2020 comunque sono consentiti nei paesi europei e questa disposizione chiaramente è una polemica che va a penalizzare il nostro settore. Turismo organizzato che spera nell'estate a questo punto per una ripresa? Sì, sicuramente le previsioni oramai dicono che alla fine di maggio dovremmo aver raggiunto il momento di ripartenza e quindi dalla metà di giugno pensiamo di fare una stagione, diciamo tornare nella seminormalità. È chiaro che i numeri che si raggiungevano nel 2019 non prima del 2022. A questa situazione generale si aggiunge il boom delle crociere dove si può partire senza troppe restrizioni perché lì si creerebbe una vera e propria bolla. Perché per esperienza fatta a bordo c'è un'applicazione di protocolli rigidi che permettono secondo noi la sicurezza per il passeggero. Sicurezza a bordo ma anche qualora si scendesse in maniera organizzata cosa accade? Allora, nei vari porti non si può scendere individualmente. Bisogna per scendere partecipare a un'escursione organizzata dalla nave, dalla compagnia marittima. E anche durante le escursioni non si può abbandonare, allontanarsi dal gruppo altrimenti non si può neanche risalire a bordo. Addirittura? Addirittura. Chi sale a bordo, specifichiamolo, può farlo solo dopo aver fatto il tampone? Sì certo, bisogna fare il tampone attualmente 4 giorni prima, endro 4 giorni prima della partenza. Poi al porto la compagnia fa un altro tampone sul posto, proprio all'imbarco. Prima di imbarcare si attende la risposta dell'imbarco e poi ci si imbarca. Oltre alla crociera, altra meta definita un po' in maniera affrettata covid free, le Canari. Ci sono state due partenze per Pasqua dall'Italia del Nord, esattamente da Verona e da Milano Malpensa dove secondo le informazioni che ci pervengono sono stati pieni i voli.